Priscilla di Sofia Coppola ci racconta la storia d'amore tra il grandissimo Elvis Presley e la giovanissima Priscilla. Storia di cui non diremo niente perché tanto la conosciamo tutti, non c'è neanche rischio di spoiler né la soddisfazione di minacciare tra 3, 2 e 1, faccio uno spoiler eccetera. Però invece dell'operazione che Sofia Coppola ha fatto, invece mi piace fare due chiacchiere. La prima è molto semplice, ha fatto un biopic, no? Come mai fare un biopic oggi? Perché farlo? Beh, come sempre, cioè perché io prendo una storia del passato, da poco, da tanto e la offro, la ridico al tempo di oggi, la ridico in questo presente. Vuol dire che penso che quella storia là possa essere di riferimento a questa storia qua che è quella che noi stiamo vivendo. Vuol dire che in qualche modo deve dialogare. Quindi i biopic andrebbero sempre visti, a mio modo, di vedere come un dialogo, come una dialettica, sono film dialettici perché sto dicendo a te o ridicendo a te una storia che tra l'altro già conosci affinché tu, e qua c'è il quid del film oppure non c'è, no? Bisogna vedere. Allora, la prima sensazione strana che mi aveva dato il film, poi vediamo se era fondata o meno, ma era una sensazione mentre lo guardavo, era che il personaggio di lei avesse qualcosa di strano nella messa a fuoco. Cioè, ci sono come due cerchi, forse ne abbiamo anche già parlato, quando si costruisce un personaggio. Un cerchio è un cerchio che contiene tutte le azioni che questo personaggio fa. Un cerchio contiene tutte le emozioni che questo personaggio sente. Quando i due cerchi sono sovrapposti, noi vediamo un protagonista che fa un sacco di cose che mandano avanti la storia e sente anche un sacco di emozioni. Lì è il top, perché? Perché noi siamo totalmente immersi, totalmente immedesimati in questo protagonista ed è attraverso di lui che non solo sentiamo le emozioni, ma modifichiamo il mondo, no? Quindi compiamo un'impresa, viviamo un'avventura. Ma non sempre bisogna fare così, non è detto che sia una regola, eh? Non è un errore fare diverso, tecnicamente. Però devi sapere che quando tu splitti i due cerchi, da una parte ci sta il cerchio delle azioni, chi manda avanti la storia, dall'altra il cerchio delle emozioni, chi sente la storia. Se questi due cerchi si separano, succede quello che per larghi tratti succede in questo film. La storia la manda avanti lui perché lui decide i tempi del matrimonio, i tempi del fidanzamento, i tempi del primo rapporto sessuale, i tempi dei viaggi, dei vado, torno, vieni, non vieni, cioè non vieni quasi mai, eccetera. Nel senso che lui se ne andava da solo a fare le sue cose. Parliamo rigorosamente dei personaggi del film e non delle persone vere che io non ho mai conosciuto e non so. Allora, stando al film, lui mandava avanti molto, lei incassava, lei subisce per una parte enorme del film tutta questa cosa, ma subisce anche prima, quando subisce il fascino di lui. Però è sempre lui che compie le azioni, anche quando c'è da andare a vivere con lui o da uscire la sera con lui. Lei manda avanti lui a chiedere o lei lo chiede, ma poi è lui che sfonda le porte, quelle importanti. E il padre dice sì a lui, non a lei, soprattutto nella seconda richiesta, quella che lei se ne vada. Perché nella prima può uscire sua figlia con me, ci stava con l'epoca che il ragazzo si presentasse, no? Dopodiché però, quello che noi vediamo all'interno di un biopic che si colloca in un tracciato, che è quello della coppola, che ha sempre lavorato per il femminismo e per l'emancipazione femminile, mi suonava strano, perché ho detto, è un po' passivo come personaggio femminile per essere un film della coppola, per essere un film che racconta una lotta, racconta un processo, no? Ora in parte mi sbagliavo. Perché? Perché è vero che ci sono questi momenti e a me sono rimasti un po' dentro, devo dirvi la verità. Cioè di passività, di appiattimento. Però è vero che se voi guardate le cose grosse del film, della storia, queste le decide sempre lei. Cioè, è vero che è lei che decide di andare a vivere da Elvis. Non lo ottiene sul campo, quello lo ottiene Elvis, ma lei lo decide dentro di sé. Lei sceglie, no? Poi se glielo fanno fare, la lotta la fa lui, è d'accordo, ma la scelta la compie lei. Io vado da Elvis. Quella è la prima grossa scelta. E poi io vado via da Elvis, alla fine. No? Quasi alla fine. E quella è la seconda grossa scelta. Queste sono roba sua e sono cose molto attive, molto propositive rispetto alla realtà. Ora veniamo alla prima scelta. La prima scelta, quella di andare a vivere da Elvis, è la scelta che viene sulla base dell'innamoramento. Anche perché il film ci racconta molto bene quanto poco loro si conoscano. Perché praticamente non si vedono mai. Si piacciono. Si piacciono i corpi. Ma a lei forse piace anche un po' tutta la favola del mondo, non lo so. Ma comunque certamente sono due belli. Belli belli. Perciò chiaramente ci sta questa attrazione. Ma non si conoscono. Per cui è proprio quel momento, semplicemente in cui l'innamoramento entra nella nostra vita, irrompe nella nostra vita e va a rompere, a squadernare le carte del disegno compiuto. Cioè non è l'innamoramento il momento in cui tu intuisci il senso. È il momento in cui lo perdi. È il momento in cui tutto un insieme di cose, tutto un quadro si disintegra in tutti i mille puntini che lo compongono. Si sfascia, no? Ma in questo sfascio c'è un'energia lucente, meravigliosa, che si sprigiona. E lei, sull'onda di questa energia, se ne va. Facendo questo, lei, lasciamo perdere che non l'ha ottenuto lei sul campo. Ma lei che cosa afferma di fatto? Afferma un valore molto importante, che è quello del libero arbitrio. Lei in quel momento determina la libertà di una donna di seguire la persona che ama, di seguire la propria strada, di prendere le proprie decisioni per la propria vita. Io faccio di me quello che voglio. E questo è un primo valore imprescindibile che lei conquista con questo passaggio. Vediamo se poi ci sarà altro però, oltre a questo valore. Il problema qual è? È che cosa stava scegliendo lei? È vero, il libero arbitrio ti dice puoi fare quello che vuoi. Nei limiti dell'umano, chiaramente. Ma una domanda che sta sotto è, ma tu che cos'è che vuoi veramente? E l'altra è, perché vuoi quello che vuoi? E queste non sono due domande a cui il libero arbitrio possa rispondere. Quando una lotta si ferma alla conquista del libero arbitrio, si ferma prima della consapevolezza. Perché il volere di per sé non è necessariamente illuminato dalla consapevolezza, però lei vuole e quindi lo fa, lo ottiene e lo fa. E siamo al primo trasloco. Siamo là, nella mega reggia, nel paradiso, nell'Eden, in cui lei si trova a casa di Elvis. Uno sfarzo, una cosa incredibile e li vediamo anche come questo libero arbitrio che lei ha esercitato sia solo pertinente a se stessa. Perché? Perché in tutto questo secondo atto del film, lei non è che compri una casetta al mare con tutti questi fiumi di soldi ai suoi genitori, o gli dia, non so, gli compra una macchina, gli aiuta economicamente, gli fa una cosa, ma nemmeno gli telefona se non è proprio necessario e nemmeno li invita. Nemmeno va a trovarli. Cioè, lei se n'è andata per la sua strada. E tutto il resto è rimasto a disposizione, perché nelle poche volte in cui loro compaiono telefonicamente o contatti indiretti, si sente la loro disponibilità ad accoglierla, però, che lei a casa manca sempre, però, lei non c'è mai. Se ci va è perché ha bisogno. Non è un giudizio, ma è semplicemente la nota di come quando noi stiamo vivendo un passaggio cruciale, siamo concentrati sul nostro viverlo. E a volte questo può farci perdere di vista l'attenzione a quel che c'è intorno, che non è una cosa buonista. È una cosa anche strategica, se volete. Perché poi il problema è che se tu mai dovessi uscire da quell'Eden, cosa ne sarà di te? Comunque, adesso siamo nel secondo atto. Siamo in questa reggia meravigliosa. E lei fa il secondo trasloco. Questo si fa più lentamente, con più difficoltà. L'irruzione dell'innamoramento, questo scompigliarsi del panorama interiore in schizzi di colore, di impunti, macchie, che reinventano la nostra visione della vita e la scompigliano tutta. Adesso, invece, tutto diventa molto silenzioso e molto austero, molto profondo, e contatta altre corde di noi. Per esempio la delusione, per esempio la depressione, per esempio la rabbia. Dove ci rendiamo conto che quella fiducia fantasticata che avevamo per quella persona quasi immaginata con la quale ci siamo messi e da la quale ci siamo innamorati, è in realtà una persona normale. Se ci fate caso, molti degli insulti che noi ci diciamo alla fine delle storie d'amore, che cosa sono? Sei proprio come tutti gli altri. Certo, non ho due nasi, non ho tre orecchie, sono proprio come tutti gli altri. Però all'inizio c'era come questa illusione che l'altra persona fosse chissà che cosa. Bene, allora, in questa disillusione si pesta il sedere per terra, si cade dal pero, si pesta molto forte, ci si può fare anche molto male. Lei si fa molto male. Ma in questo matura una posizione. Perché vedete, io posso stare all'interno di una situazione di violenza, come quella in cui si trova lei, perché lui non è un femminicida potenziale, però per esempio una sedia gliela tira. Una sedia basta e avanza per un femminicidio. Se ti peglio nel posto giusto e ti spacco qualcosa, la sedia è più che abbastanza. Quindi, diciamo, non volontario, non freddamente calcolato, però era un iraccondo, da come è raccontato nel film, e poteva veramente succedere di tutto. Allora, io posso essere in una situazione come quella, ma decidere di non sentirla. Cioè, ci vuole fegato, atto di coraggio enorme, per decidere di rendermi conto di quello che ho intorno. Per decidere di accettare che sto sentendo qualcosa che non va. Ma perché ci vuole coraggio? Perché io vengo dal libero arbitrio di prima, che è stata una mia grande battaglia. L'ho tanto voluta questa cosa. Ho tanto lottato per ottenere questa cosa, no? Adesso che ci sono, mi delude. Sarà meglio non dirlo a me stesso, che mi sta deludendo. Sarà meglio non dirlo a me stesso, che questo è un uomo che va con tutte. A me stessa, in quel caso, no? Perché? Perché è fragorosa la caduta, è molto dolorosa, e adesso che cosa faccio? Questo è un passaggio ulteriore, no? Ed è il viaggio non dalla realtà al sogno, ma dal sogno alla realtà. Però attenzione. Perché quando io torno alla realtà dal sogno, non torno come prima di partire. Perché adesso so una cosa, e non è soltanto la lezione che così impari a sognare, così te l'avevano detto, eccetera. Lasciamoli perdere. Torni anche con una notizia buona, quando i sogni finiscono. La notizia è che tu puoi sognare. La notizia è che tu non sei fatto per l'infelicità. Che lei non era fatta per essere infelice, come nessuno di noi. Lei non era fatta per vivere una vita che per lei sarebbe stata una vita anonima, o una vita triste. Voleva la sua vita, coincideva con quella di quella star. Poteva anche non coincidere, poteva essere aprire una panetteria. E sarebbe stato bellissimo, no? Quindi non era la stessa cosa. È ciò che per te rappresenta l'entusiasmo. Cioè che noi senza entusiasmo moriamo. E che siamo fatti, e siamo quelli là che sanno sognare. Poi dobbiamo imparare a questi castelli in aria a costruire le basi prima che crollino e a fondarle nel terreno. Questo sì, ma non a tirare giù i castelli. Perché? Perché questo non ci aiuterebbe in nessun modo, no? Non ci aiuterebbe a migliorare la nostra vita, ma solo ad abbassare il soffitto delle nostre speranze. E arriviamo al momento in cui lei fa il terzo trasloco. Da quando è in questa, diciamo, realtà di ritorno, che è, come abbiamo detto, diversa dalla prima realtà, adesso sente questa cosa dell'entusiasmo, sente di saper provare delle cose. E allora entra in contatto con quel che sente. Perché l'esperienza del sentire a questo punto della vita l'ha fatta e non come prima di partire. E che cosa sente? Che non è per lei nemmeno quel sogno. Non può più impedirsi di sentirlo. Questo è il trasloco dalla nuova realtà alla verità di noi stessi, alla verità che lei ha di se stessa, che è quello che tu senti di ciò che stai vivendo e non ciò che hai intorno tu cur, che sia bellissimo e bruttissimo, che è completamente illusorio e completamente transeunte, perché evidentemente tutto finisce. Quindi che cosa senti in questo momento? E lei in quel momento si connette. È lì che la coppola per me non mi ha portato, nel mio caso non è riuscita a portarmi, o io non sono riuscito a capire, a quel punto di rottura, capito? Ho visto che a un certo punto arriva, però non l'ho sentito funzionante. Però è importante che comunque ci sia, il momento in cui lei dice o vado via adesso o non vado via più. Lei lì sta superando una soglia, soglia che fisicamente attraversa, varca, quando esce dalla grande casa e saluta, diciamo la servitù, perché è veramente una servitù, e poi si apre il cancello elettrico e lei esce in automobile e lo lascia per sempre. E al cancello c'è qualche giornalista che fa qualche foto, qualche fan che fa qualche foto, a lei che esce e se ne va. Questo è il punto più alto, secondo me, del film e più bello del film, perché in questo terzo trasloco dalla realtà alla verità, c'è questo momento magico in cui non abbiamo più una casa alle spalle, perché si è chiuso quel cancello e davanti abbiamo solo l'ignoto. Questo momento del non più e non ancora, se ci pensiamo bene, è ogni momento, ogni momento e non più, rispetto al passato anche di un secondo fa, di quando io ho iniziato a fare questa chiacchierata con voi, non c'è più, anche se la rigiro un'altra volta, non c'è più la possibilità di tornare a quel momento, quello è chiuso per sempre e chi ne sa qualcosa del prossimo momento? Io no. Allora, quello lì è il varco di soglia di lei che con l'automobile esce dal cancello e se ne va, sospesa in quel niente, che è il non più e il non ancora, che sta tra il non più e il non ancora. Lì ci sei tu con la tua scelta, lì ci sei anche tu con la tua angoscia, con la tua fragilità, perché sei sospeso in un non sapere. Quella lì è veramente la verità di quello che senti, proprio perché è sganciata dalle circostanze che ti minacciano e ti determinano. Dice una cosa del genere Magritte, che dice il nostro cervello è quasi sempre in scacco di ciò che lo minaccia e di ciò che vede intorno, della realtà che gli sta attorno e quasi mai esprime la sua piena libertà, diceva lui. Ecco, questo secondo me è proprio importante, perché lei esprime la sua piena libertà e la sua piena libertà non è il libero arbitrio. È questo che mi è piaciuto tanto, perché il libero arbitrio è essere liberi di fare quel che si vuole. La libertà è essere liberi di liberarsi di quel che si vuole e questo è molto difficile. Lei quando esce da quella villa si è liberata da quel che voleva, si è liberata da quell'idea di vita, si è liberata da quell'idea di sé che avrebbe voluto per sé e che bisogna congedare a un certo punto, perché la vita ti ci porta e accettando che sei quel che sei in questo momento. E questo momento è sempre sospeso tra il non più e non ancora. Liberarsi del libero arbitrio è una scelta potente, è essere veramente liberi. Mentre vedete il libero arbitrio avrebbe comportato essere indipendente da Elvis. Lei non si rende solo indipendente da Elvis. Se vedete proprio la sequenza in cui viene raccontata la sua uscita, lei va verso la propria strada. Sta scegliendo se stessa. Infatti lo dice anche non per disamore tuo, per amore mio. Disamore tuo sarebbe il libero arbitrio. Non ti amo più, me ne vado. Amore di me è la libertà. È quella libertà che io devo raggiungere. E questo secondo me è la cosa che brilla molto più in sceneggiatura che in regia. Ancora una volta è il secondo fin di fila che vedo che mi convince meno nella regia e molto di più nella sceneggiatura. Mi domando, domanda cattivissima, se la forza di questa sceneggiatura non sia dovuta al fatto che la storia di per sé era una storia forte, ma credo di no. Credo che Sofia Coppola abbia fatto un lavoro. Ecco, so che Priscilla, credo poco prima di morire, credo aver capito che sia andata a vedere il film e che le abbia detto, brava, hai fatto bene i tuoi compiti, la mia vita è stata così. È chiaro che stiamo parlando di una vita, di un racconto da un punto di vista, perché loro con tutta la potenza che hanno, Coppola, non sono riusciti ad avere una singola nota da Elvis Priest, dai diritti, no? A prendere una sola canzone. Sono tutte cover, tutte canzoni scritte ex novo, eccetera. E quindi vuol dire che la polarizzazione, la separazione, no? Nella visione di questa storia è rimasta persino negli eredi, sono passati 45, non so quanti anni sono passati. Io credo che sia un buon film da vedere. Questa volta, anche se per me l'obiettivo è sempre andare da qualche parte e chiacchierare insieme, credo che l'obiettivo questa volta possa essere anche rimanere un attimo in dialogo con se stessi, perché, almeno a me, ha provocato questo. Perché mi sono domandato se io sono sempre consapevole che ogni momento è quel varco, che ogni momento è il terzo trasloco, no? E quindi voglio sapere che cosa ne pensate, insomma, quando traslocherete da casa vostra e andrete finalmente al cinema. Grazie a tutti, buona visione.